Un fine settimana drammatico sulle strade del territorio a sud di Salerno. Tra sabato e domenica diversi sinistri che si sono verificati, soprattutto sulla statale 18. Nella notte tra sabato e domenica un terribile impatto si è verificato sulla Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, una Fiat 500, una Jeep Renegade e un Audi. Quest'ultima, nell'impatto violentissimo, ha sfondato il guardrail, rimanendo sospesa sul ciglio della strada, rischiando addirittura di cadere sulla sottostante via Togliatti. Terribile lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori. Nel groviglio di Lamiere sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina di pochi anni. Preoccupante soprattutto le condizioni di un 35 anni di battipaglia che nell'impatto ha riportato traumi seri. Trasferito prima al San Luca, poi in eliambulanza, ha raggiunto l'ospedale Cardarelli di Napoli. Nell'incidente è rimasta ferita anche una ragazza di 20 anni di Castellammare di Stabia, trasferita all'ospedale San Luca in codice giallo. Pare che stesse tornando a casa con la famiglia dopo aver mangiato e partecipato ad una cerimonia nel Cilento. Brutto incidente stradale sulla statale 18 all'altezza di Ponte Barizzo, sabato pomeriggio. Uno scontro tra un'auto e una moto, dove è rimasta ferita una coppia di Castellabate. Sul posto ai sanitari per la prima assistenza ai feriti ed avere la peggio proprio le due persone a bordo del mezzo a due ruote. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, la polizia stradale di Vallo ha effettuato tutti i rilievi del caso. Poco dopo, sempre sulla statale 18, un altro incidente in località Cafasso a Capaccio. Qui sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. Disagia il traffico veicolare sul posto ai sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada di Vallo. Intanto ieri sera, per il rientro dal weekend, lunghe code sono state registrate sulle principali strade di accesso alle località costiere del Cilento. Qui siamo sulla Mingardina, traffico intenso in serata.